Signori amici di Riviera24, a tutti buonasera. Situazione del tempo praticamente piatta come ci siamo lasciati la settimana scorsa, ovvero con durevoli condizioni di alta pressione, anzi direi quasi siccitose. E per il momento sono destinata a durare ancora un po', però noi come fantameteo vediamo già una fine e più o meno questa fine sarà fra una settimana, dieci giorni, quando si romperanno i tempi e allora governeranno le basse pressioni. Quello che vedete già nello sfondo è di una cartina di parecchi giorni, fra qualche giorno, e sarà fra almeno dieci giorni, quindi un bel fantameteo. Però sappiate già che questa cartina sarà quella che porrà fine a questa lunga siccità, che sì ha dato occasione nella zona di Savona, di Genova, di Spezia, a qualche nubifragio, ma una cosa direi proprio non durevole, proprio una cosa così episodica. E invece quella che sta per dedicarsi anche al nostro ponente sarà una questione un pochino più di durevole, proprio durerà qualche giorno, ma non spaventatevi perché sì sarà piovosa, ma non fino al punto in cui si possa definire da nubifragio. Quindi io per adesso direi ancora poco nuvoloso o al limite nuvoloso, proprio cose anche in questo caso senza un seguito importante, però ci saranno come venti una prevalenza da levante, le temperature intorno ai 20-22 gradi di giorno, 18-19 di notte, 20 deboli variabili, o a regime di brezza, ma mai venti forti. Quindi non aspettiamoci venti forti. Cosa c'è ancora da segnalare? Io direi basta, non c'è nient'altro da segnalare, godiamoci ancora queste giornate abbastanza buone, con caratteristiche di temperature direi poco più che autunnali, poi arriverà qualcosa in cui sarà bene parlare, ma ne riparleremo con calma. È tutto, grazie e arrivederci. Buona serata.